Il ciclone pare sia entrato in maniera importante l'allenatore, non ti dico da che parti schede perché sarebbe cosa studio, però tu che idea magari ti sei fatto di questa situazione, perché come dicevi tu siamo solo alla guarda. È normale che si dà sempre colpa all'allenatore quando non si vedono magari i risultati, il gioco, cioè diventa lui che mira la squadra, il responsabile, però qua siamo tutti grandi vaccinati, siamo una squadra esperta e siamo tutti concentrati sul nostro lavoro insieme all'allenatore, abbiamo piena fiducia nel mister, vogliamo uscire nel più bel tempo possibile insieme da questo momento, quindi posso capire le lamentele di chi non gli sta bene, dei tifosi, capiamo tutto, però noi qua dentro siamo un blocco unico e l'unico pensiero nostro è quello di riuscire a risollevarci il prima possibile.